buongiorno a tutti benvenuti sono elisa tassoni sales account di acab ho qui con me a francesco sorzini il collega del reparto tecnico così se avrete delle domande tecniche abbiamo già la persona di riferimento sì buongiorno a tutti vi chiedo cortesemente prima di iniziare siamo perfettamente in orario se mi sentite e vedete il mio schermo per favore se riuscite a darmi un ok nella chat che trovate alla vostra destra direi grazie luca grazie fabio buongiorno stefano mi fa piacere avervi così numerosi buongiorno a voi se durante la presentazione vi vengono in mente delle domande potete usare sempre questa chat così poi man mano alla fine della della presentazione tenteremo di rispondere a tutti i vostri dubbi e ai vostri quesiti ok perfetto grazie massimiliano grazie danilo buongiorno marilisa che bellissimo nome ok perfetto direi che possiamo iniziare allora siamo qui per parlare di rmm vi faccio un breve riassunto su che cosa intendiamo per rmm rmm va a racchiudere sta per remote monitoring management quindi va a racchiudere tutti quei prodotti che ci consentono di gestire e monitorare le macchine dei nostri clienti quindi ognuno di voi ha un parco macchina una serie di clienti a cui gestisce le macchine server pc dispositivi mobili tutto quello che volete oggi parliamo di strumenti che ci aiutano a facilitarci la vita e quindi a gestire in modo automatizzato il parco macchine dei clienti giusto per iniziare serenamente ho un primo quesito per voi a cui vi prego gentilmente di rispondere state la domanda è state già usando un prodotto rmm quindi si uso un prodotto distribuito da acab si uso un prodotto di altri fornitori e qui ovviamente mi date una pugnalata al cuore oppure no non uso niente o quantomeno uso dei prodotti magari slegati tra loro che mi consentono di fare tutte le cose che generalmente fa un prodotto rmm ma appunto sono prodotti slegati non è un unico un unico prodotto ancora qualche secondo per rispondere e e poi iniziamo seriamente con con questa con questa presentazione ok direi che possiamo possiamo perseguire grazie per il vostro aiuto allora partiamo da un primo argomento qual è lo scopo dei nostri clienti allora i nostri clienti devono fatturare quindi devono lavorare fare margini per perseguendo il proprio oggetto sociale quindi ognuno dei nostri clienti ha un'attività specifica deve poter lavorare serenamente utilizzando chiaramente dei strumenti degli strumenti it che possono essere i pc i server router tutto quell'email tutto quello che vi viene in mente per consentire ai nostri clienti di lavorare serenamente di portare avanti le loro le loro attività qual è il ruolo invece dei fornitori di servizi quindi il vostro ruolo il vostro ruolo è che è far sì che l'it dei vostri clienti funzioni a dovere quindi gli dia modo di lavorare e di perseguire appunto il proprio il proprio obiettivo quindi voi che vi occupate di it siete responsabili dei margini dei vostri clienti se loro possono usare i mezzi tecnologici che hanno a disposizione per lavorare è grazie a voi perché appunto li aiutate a utilizzare questi strumenti a lavorare meglio come ci occupiamo dell'it dei nostri clienti abbiamo tre opzioni in questo caso uno non lo facciamo e questa è l'opzione più facile ovviamente due lo facciamo in maniera manuale quindi una serie di attività che portiamo avanti manualmente tre usiamo strumenti rmm che è proprio l'argomento della nostra chiacchierata di oggi andiamo a vedere nel dettaglio queste tre opzioni non lo facciamo allora se non facciamo nulla per la rete it dei nostri clienti non so di che cosa stiamo parlando il cliente ci paga per qualcosa che noi non facciamo o il cliente si aspetta da noi qualcosa che noi non facciamo niente se l'it abbandonata a se stessi chiaramente non stiamo aiutando i nostri clienti e è facile che i nostri clienti prima o poi si accorgano di questa non attività da parte nostra e quindi ci abbandonino per altri fornitori per cercare altre si altri fornitori che magari sono un pochino più attenti chiaramente per noi per noi fornitori di it sarebbe una grossa perdita perché perdiamo il cliente e tutti sapete quanto è difficile trovare dei nuovi clienti e chiaramente perdiamo anche dei soldi perché questi non ci pagano più se lavoriamo manualmente la seconda opzione è facciamo una serie di attività manualmente allora praticamente in questo caso andiamo a rincorrere tantissimi interventi a basso valore aggiunto perché nel vostro lavoro nel nostro lavoro ci sono tantissime attività che hanno un basso valore aggiunto che non ci portano a casa chissà quali guadagni chissà quali margini e in più ci fanno perdere anche del tempo il tempo lo sappiamo tutti purtroppo manca sempre siamo sempre di corsa abbiamo sempre mille cose da fare quindi diciamo che un 10 per cento è lavoro intellettuale quindi capita il problema io fornitore it devo andare a trovare la soluzione a capire da che cosa è dovuto questo problema e quindi andare a cercare la soluzione il 90 per cento è lavoro tecnico implementativo riassumendo abbiamo un lavoro di precisione ma ripetitivo quindi ci sono tantissime attività che sono attività che devo fare con attenzione ma che si ripetono giornalmente e che in più hanno un alto margine di errore se sto facendo delle attività manuali è chiaro che anche il mio stato fisico influenza queste attività manuali perché oggi posso essere arrabbiata posso essere posso aver litigato con il fidanzato il cane il gatto posso non aver dormito per mille motivi se devo fare un lavoro di precisione è chiaro che il margine di errore si alza facciamo un esempio di lavori che possiamo portare avanti manualmente per esempio monitoraggio monitoraggio delle macchine chiaramente se devo andare a controllare singolarmente tutte le macchine dei miei clienti il margine di errore e il tempo che ci devo dedicare sono abbastanza importanti leggere analizzare i file di log un lavoro diciamo abbastanza per me è frustrante devo dirvi la verità io sono un commerciale quindi chiaramente poi ci saranno dei tecnici che amano analizzare i file di log non lo so però mi dà l'idea di un lavoro un po frustrante che ci porta via tanto tempo e che ci consente e che non ci consente magari di fare attività più interessanti anche dal punto di vista tecnico installazione dell'applicazione installazione delle pubblicazioni è un lavoro abbastanza ripetitivo se devo farlo su 100 macchine insomma diciamo che perdo un po un po la pazienza quindi quali sono le caratteristiche di queste attività sono appunto come dicevamo attività a basso valore aggiunto che vengono seguite generalmente da una risorsa costosa perché lo sapete tutti che un dipendente costa o comunque in generale il nostro tempo costa e che richiede grande precisione perché il margine di errore è abbastanza alto e quindi bisogna prestare massima attenzione e dedicare diverso tempo. Cosa succede invece se usiamo degli strumenti RMM quindi di remote monitoring e management innanzitutto un unico pannello quindi un'unica console che mi consente di vedere e di gestire tutti gli endpoint dei miei clienti e già questa è una fonte di risparmio di tempo perché mi collego vedo tutto in tempo reale vedo tutto al volo e quindi sono aggiornato in modo tempestivo. I tempi di intervento sono più veloci e tempestivi nel momento in cui io controllo il mio pannello vedo che c'è un problema su una determinata rete su una determinata macchina eccetera posso intervenire in modo immediato e fare anche bella figura diversi nostri partner che utilizzano già dei prodotti RMM ci hanno raccontato di occasioni in cui loro hanno chiamato il cliente per dirgli attenzione guarda che c'è questo problema e hanno fatto una bellissima figura questo chiaramente si ripercuota anche a livello per esempio marketing questo cliente si innamora di voi e sicuramente se dovrà consigliare un fornitore IT a un amico a un collaboratore eccetera farà il vostro nome quindi doppia doppio beneficio si può intervenire e cross i clienti cosa vuol dire che una determinata attività che io faccio per un cliente la posso spalmare su tutte le macchine degli altri clienti senza nessun problema senza dover rifare il lavoro un'altra volta. Questa è una bellissima immagine che diciamo racchiude il significato dei prodotti RMM cioè questo tecnico davanti alla sua console che ha il potere che ha il controllo di tutte le macchine che sono collegate a questa console. Andiamo a vedere che cosa include tendenzialmente un prodotto RMM quindi ha diverse funzionalità che ci possono aiutare nell'attività di fornitore IT abbiamo l'audit inventario sia hardware che software per capire che cosa c'è che cosa include la rete del mio cliente il patch management sappiamo tutti che le patch sono importanti poi lo vedremo successivamente il monitoraggio quindi il monitoraggio vero proprio delle macchine il lavoro lavoro remoto include anche il controllo remoto quindi tanti di voi sono sicuri useranno dei prodotti per il controllo remoto di terze parti ecco chiaramente un prodotto RMM ha già incluso il proprio software diciamo di controllo remoto la distribuzione dei software quindi nel momento in cui esce una nuova release io posso distribuire questa nuova release su tutte le macchine dei miei clienti con semplicemente un click in modo molto veloce la reportistica quindi la possibilità di estrarre dei report sulla mia attività di fornitore IT per due obiettivi uno per una sorta di controllo interno quindi voglio andare a vedere che cosa abbiamo fatto durante questo mese sulle macchine dei nostri clienti per capire se stiamo lavorando bene se possiamo implementare dei nuovi servizi eccetera eccetera e due e la reportistica vi serve anche per dare una prova diciamo di quello che avete fatto al vostro cliente quindi io vado dal cliente e dico ciccio guarda che questo mese ho fatto a b c d per te ok quindi il cliente contento magari non mi ha visto ma allo stesso tempo sa che io dietro le quinte sto lavorando automazione automazione IT è una funzionalità essenziale e importantissima per l'attività di un fornitore IT attraverso degli script io posso automatizzare determinate attività ed evitare quindi di doverle fare manualmente perdendo del tempo come abbiamo detto e con un alto rischio di errore e dedicare il tempo che risparmio a fare qualsiasi altra cosa trovare dei nuovi clienti trovare dei nuovi servizi che posso offrire trovare dei nuovi prodotti che posso offrire quindi l'automazione è assolutamente essenziale facciamo un esempio banale parliamo dell'idraulico allora l'idraulico cosa fa viene a casa vostra a fare un lavoro ma arriva già con la cassetta degli attrezzi con dentro pinze cacciaviti non so che altri strumenti in questo momento non mi vengono in mente altri strumenti però il pappagallo giusto il pappagallo è dell'idraulico corretto ok sono tutti strumenti che lui usa per il suo lavoro ma che non vi fattura perché lui non è che vi viene quando viene a lavorare a casa vostra non è che vi viene a fare nella fattura c'è anche l'importo per le pinze e i cacciaviti lui fattura solamente il lavoro eseguito quindi la stessa cosa dovrete fare voi con i vostri clienti chiaramente il prodotto rmm facilita la vostra vita di fornitori it io non dovrei secondo il nostro punto di vista andare dal cliente dirgli a mi devi pagare anche questo software perché mi facilita la vita nella gestione delle tue tue macchine all'interno del servizio della si del del contratto diciamo che fate sottoscrivere il cliente dovrete anche considerare diciamo una quota in più per i prodotti che utilizzate per fare quelle attività quindi lo stesso discorso che fa che fa l'idraulico parliamo di un altro argomento che sicuramente vi è noto parliamo di wanna cry pettia criptovirus meltdown tutte queste bellissime tutti questi bellissimi nomi che ci hanno causato nei mesi scorsi un po di brividi nella schiena diciamo che i sistemi vanno aggiornati è obbligatorio quasi aggiornare proprio per evitare problemi ben più gravi proprio per evitare che i nostri clienti smettano di lavorare si debbano fermare quindi perdano dei soldi e perdano parte della loro della loro attività quindi se non aggiorno i sistemi aumenta la probabilità che tutto si fermi se i sistemi si fermano il mio cliente si arrabbia quindi non solo mi chiama al telefono arrabbiato e magari mi insulta anche speriamo di no ma c'è il rischio appunto che anche in questo caso cambi fornitori di quindi l'aggiornamento i sistemi vanno aggiornati ma come facciamo questi aggiornamenti come devo fare gli aggiornamenti e soprattutto chi lo paga io lo so che voi mi direte lisa sì sì belle parole ma i clienti non capiscono questa cosa sono abituati magari a lavorare in modo un pochino più vecchio quindi determinata attività non ce le vogliono pagare ok perfetto va benissimo siete voi che dovete andare dai vostri clienti e dire ragazzi dobbiamo fare dell'attività che magari prima non facevamo o che loro non sapevano neanche che voi faceste assolutamente può anche essere questo ora però non possiamo più rimandare e adesso sono delle attività che dobbiamo fare regolarmente per evitare problemi ben più gravi quindi il fermo dei sistemi la possibilità la possibilità di dover bloccare tutto e quindi di sprecare tempo e soldi una piccola nota il gdpr in questo senso sapete tutti cos'è il gdpr in utili questo qui è raccontarvelo perché ormai ci hanno martellato con questo argomento giustamente il gdpr vi può aiutare ho parlato nei mesi scorsi con diversi partner come siete voi che stanno spingendo molto sul discorso gdpr e che quindi stanno cambiando un pochettino il modo di lavorare con i loro clienti proprio in virtù di questa normativa quindi spingete su questa leva se poi avete bisogno di una mano di chiarimento eccetera ci possiamo sentirsi serenamente però spingete su questa leva perché è una leva importante ma passiamo a fare un po' di conti allora innanzitutto facciamo dei conti lato cliente quindi andiamo a vedere quanto potrebbe costare l'implementazione di un prodotto rmm a voi ma dal punto di vista del cliente allora poniamo il caso che che il cliente vi paghi 10 euro al mese a macchina per perché per far sì che voi gestiate queste macchine quindi lui vi paga 120 euro all'anno a macchina ok poniamo il caso che il costo di un dipendente sia 30 mila euro all'anno sto parlando chiaramente sono delle cifre buttate lì ragazzi poi ognuno deve fare i suoi calcoli in base alle proprie caratteristiche se questo cliente mi paga 120 euro all'anno a macchina vuol dire che il suo costo a dipendente aumenta e diventa 30 mila 120 quindi un aumento dello 0,00 scusate aspettate che non lo vedo ma aspettate che lo guardo 4% quindi un aumento veramente contenuto se ha 10 persone quindi 10 macchine vi paga 1200 euro all'anno in un anno ci sono tendenzialmente 500 mila minuti quindi vuol dire che vi paga 0,0024 euro al minuto poniamo che questo cliente fatturi 500 mila euro all'anno di fatturato quindi suddividendo sempre per i 500 mila minuti vuol dire che lui guadagna o lui fattura un euro al minuto l'incidenza di questo di questa spesa è veramente veramente bassa cioè lui fattura un euro al minuto e paga voi 0,0024 euro al minuto questo è un esempio che potete fare a un cliente che magari non vuole cioè è incerto sul servizio per la gestione delle macchine ok potete fare un esempio di questo tipo magari con i suoi numeri per dargli dei dei numeri che lui che lui conosce lato vostro lato fornitore t cosa ci facciamo con questi 10 euro al mese a macchina allora il cliente mi paga 10 euro al mese poniamo che una licenza di autotask end point management che è uno dei due prodotti rmm che noi abbiamo a listino costi 2 euro al mese quindi mi restano 8 euro al mese se la matematica non è un'opinione se ho 100 macchine gestite vuol dire che io ho 800 euro al mese che restano a me poniamo il caso che ogni mese io debba considerare 4 ore al mese per studiare il prodotto per implementare nuovi servizi per insomma rimanere aggiornato su tutte le novità del prodotto rmm poniamo che un'ora costi 50 euro quindi se impiego 4 ore al mese vuol dire che il costo dello studio ha un totale di 200 euro al mese mi restano 600 euro al mese quindi io tutti i mesi utilizzando un prodotto rmm chiaramente in base ai numeri che abbiamo messo in questo esempio posso avere 600 euro al mese ricorrenti cioè senza che io debba fare niente in più di quello che sto già facendo e avendo però dei clienti che sono soddisfatti del lavoro che io faccio ok? queste 600 euro chiaramente vi possono far stare un pochettino più sereni anche a livello di definizione dei target annuali perché chiaramente se io so già che tutti i mesi mi entrerà una determinata cifra posso anche preventivare delle attività nuove avendo appunto già diciamo questo gruzzolo sicuro cosa posso offrire ai miei clienti? posso offrire per esempio un monitoraggio spazio libero su disco in modo che io nel momento in cui il disco scusate lo spazio libero sul disco sta diminuendo posso chiamare direttamente il cliente e dirgli guarda che abbiamo un problema lo spazio libero sta finendo e quindi dobbiamo pensare ad un'eventuale soluzione posso monitorare le rotture del disco quindi anche in questo caso sono io che mi preoccupo di verificare che vada tutto bene il cliente non ci deve assolutamente pensare lui deve pensare alla sua di attività lato IT sono io responsabile di tutto quello che succede posso offrire la pulizia dei file temporanei e delle cartelle download quindi sono tutte attività che magari il cliente non sa neanche che facciamo ma chiaramente nel momento in cui io vado a concordare un servizio con il mio cliente devo essere molto specifico su quello che faccio perché lui deve sapere che noi lavoriamo deve sapere cosa facciamo poi se lo dimentica dopo mezz'ora va bene nessun problema però devo specificare tutte le attività che andrò a fare posso monitorare i QNAP, Synology, tutto quello che volete anche in questo caso attraverso un prodotto RMM è tutto automatizzato e quindi io vivo sereno perché nel momento in cui qualcosa non funziona ricevo anche un alert dal sistema che mi dice attenzione, guarda che questo QNAP non funziona si è disattivato e quindi io entro prontamente in attività avviso il cliente e cerco di capire quale può essere il problema posso fare il monitoraggio dei logon falliti questo per due motivi uno, non so, per verificare cosa combinano gli utenti scusate mi viene da ridere perché io tutti i giorni sbaglio il logon e quindi i miei colleghi del reparto tecnico mi vogliono chiaramente tanto 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 bene logon falliti però ci fa anche andare a toccare un altro argomento che può essere un attacco da criptovirus chiaramente tutte queste attività posso farle a costo marginale nullo perché io ho già un prodotto RMM che il mio cliente già mi paga all'interno della quotazione dei servizi che io gli ho fatto e praticamente più servizi posso offrirgli più posso alzare i 10 euro di cui abbiamo parlato nella precedente slide apriamo solo una piccola parentesi dei servizi io so che non tutti i nostri partner offrono dei servizi alcuni stanno cambiando in questo tempo perché comunque la tendenza del mercato è quella di spostarsi sui servizi proprio perché c'è la possibilità attraverso i servizi di fare più margine di essere più autonomi ma anche di avere appunto un importo preciso un ricavo diciamo ricorrente grazie appunto ai servizi che io posso offrire quali sono le caratteristiche però di un servizio? innanzitutto devi risolvere un problema quindi voi vi prendete carico del problema devi risolvere un problema lato cliente attenzione quindi voi vi prendete carico il problema il cliente si dimentica di questo problema cioè se tra i servizi offrite che ne so il monitoraggio della connessione internet non lo so siete voi che vi dovete preoccupare nel momento in cui non funziona il cliente non ne vuol sapere nulla quindi siete voi che chiamerete il fornitore nel momento in cui c'è il problema e dite ragazzi qua non funziona niente facciamo qualcosa ok? deve togliere una rottura il cliente il cliente non si preoccupa assolutamente di nulla perché vi siete presi voi la responsabilità di fare di seguire questa attività un esempio che facciamo sempre è l'auto a noleggio alcuni di noi in ACAB hanno un'auto aziendale l'auto è stata noleggiata a lungo termine perché l'abbiamo noleggiata? perché non vogliamo rotture di scatole non vogliamo la rottura di scatole e doverci ricordare quando scade il bollo quando scade l'assicurazione quando devo andare a fare la manutenzione quando devo andare a fare non so non mi viene in mente più niente scusatemi cioè è la società di noleggio che ci avvisa tempestivamente attenzione devi fare questo guarda qua c'è il nuovo tagliando dell'assicurazione eccetera eccetera la responsabilità è di chi fornisce il servizio in caso della società di auto noleggio è responsabilità loro avvisarci che dobbiamo fare qualcosa stessa cosa vale per il fornitore T se vi prendete la responsabilità di una determinata attività siete voi che siete responsabili quindi dovete apportare a termine tutto cos'altro posso offrire? torniamo sempre alla slide precedente solo come promemoria questi sono solo degli esempi poi siete voi che dovete decidere che cosa effettivamente offrire ai vostri clienti vi potete mettere a tavolino a dire ok quali sono le attività che facciamo ai nostri clienti scriviamole tutte anche le più banali prepariamo dei pacchetti di servizi da offrire ai nostri clienti in cui ci sono delle fasce di servizi appunto una diversa dall'altra tendenzialmente sono tre e ogni cliente può decidere quali servizio sottoscrivere la vostra obiezione sarà questa le cose che abbiamo appena visto si possono fare anche a mano sono assolutamente d'accordo con voi sono assolutamente d'accordo con voi ma a questo proposito vi faccio un altro bellissimo sondaggio se devi andare se devi andare a Roma come ci vai a Roma? vai in aereo in treno o in auto? scegliete per favore una di queste di queste opzioni poi vi spiego vi spiego perché sta vincendo treno e auto scusate è treno e aereo l'auto nessuno l'ha considerata bravi mi piace questa soluzione così mentre andate a Roma potete anche vabbè col treno potete lavorare in aereo o meno ah ecco qualcuno sceglie l'auto perché gli piace guidare o perché è vicino a Roma non lo so va bene chiudo il sondaggio allora la maggior parte di voi ha scelto il treno perché? allora da Milano a Roma ci sono 573 chilometri posso andare come dicevamo in auto e qualcuno di voi ha scelto l'auto ma ci metterei 5 ore 54 minuti posso andare in treno in 3 ore più o meno da Milano posso andare in aereo in un'ora ma posso anche andare a piedi mettendoci 126 ore quindi vuol dire 5 giorni senza dormire perché non andiamo a Roma a piedi? perché ci impieghiamo troppo tempo la stessa cosa è fare fornire servizi ai nostri clienti senza un prodotto RMM ci metto troppo tempo quindi va via tanto tempo va via tanta energia l'energia può essere utilizzata l'energia e anche il risparmio di tempo possono essere utilizzate per fare delle attività nuove per cercare dei nuovi clienti per proporre dei nuovi servizi per fare delle nuove attività vediamo un altro modo per ripagarsi la licenza controllo remoto volante prima di uscire dell'ufficio quanti di voi lo fanno io penso il 100% di noi a dire la verità lo facciamo tutti oppure un controllo remoto la sera la sera dopo cena abbiamo cenato in famiglia tutti contenti mi ha soletto i bambini la moglie ci sta aspettando la moglie il marito ci sta aspettando sul divano per guardare un bel film insieme aspetta un attimo vado a fare un veloce controllo remoto oppure verifica nel weekend se quella determinata attività è è terminata oppure no oppure ancora tutte quelle attività che a colpi di 5 minuti ci portano via delle ore delle ore sia a livello di tempo lavorativo sia a livello di tempo personale vi faccio vedere questa schermata questa è una schermata di attività sessioni remote dei nostri colleghi abbiamo 14 ore di sessione remote a colpi di sessioni remote molto veloce se facciamo però la somma il totale è 14 ore io devo fatturarle queste 14 ore perché il tempo dei tecnici in qualche modo deve essere ripagato se non le fatturo chiaramente sono già in perdita non in perdita devastante però perdita abbastanza consistente andiamo adesso a vedere dei casi reali di nostri partner che già utilizzano prodotti RMM giusto per farvi un esempio di quello che fanno anche gli altri è sempre interessante diciamo condividere le esperienze degli altri allora abbiamo un cliente friuliano che ha scoperto grazie a un prodotto RMM 8 ore al mese di controlli remoti non fatturati se facciamo il conto di quanto vale un'ora di lavoro chiaramente possiamo capire quanto ha tra virgolette perso questo partner 8 ore in un mese sono tante se succede tutti i mesi chiaramente sono soldi e anche tempo che se ne vanno un consulente ha iniziato a farsi pagare per la l'attività a farsi pagare a ore quando va on site dal cliente ma al minuto quando è in controllo remoto in questo modo diciamo anche le sessioni che durano pochissimo comunque vengono fatturati ok quindi come ripagarsi la licenza l'obiettivo si può raggiungere in due modi diversi innanzitutto fare più soldi che questa è una cosa che interessa sicuramente tutti fare più soldi in che modo offrendo dei servizi in più offrendo dell'attività in più attività che magari prima già offrivamo senza dirlo al cliente o addirittura non offrivamo per niente spendere di meno spendere di meno a livello di tempo e quindi tutto il tempo che risparmio come avevo già detto 20 volte scusatemi sono un po' ripetitiva oggi lo possiamo usare per fare qualcosa di nuovo per aggiungere sempre nuovi nuovi servizi l'ambiente di lavoro parliamo dell'ambiente di lavoro in caso di prodotti RMM queste sono delle attività che posso offrire ai miei clienti inventario hardware e software quindi un report dettagliato di tutto quello che c'è controllo remoto più lavoro da remoto risparmio il tempo per gli spostamenti non vado più dal cliente faccio tutto da casa mia la maggior parte dell'attività poi è chiaro che ci sono delle attività che non si possono fare da remoto siamo tutti d'accordo però la maggior parte delle attività vengono fatte da remoto e ho anche il controllo remoto incluso nel prodotto RMM questo mi dà modo di risparmiare per esempio faccio un esempio banale l'acquisto di TeamViewer che da quello che mi dicono io non so se è vero chiaramente vi riporto quello che mi dicono ogni anno aumenta di prezzo quindi già quella spesa la tolgo in più oltre il controllo remoto posso aggiungere per esempio il monitoraggio tengo monitorate le macchine intervengo in caso di bisogno e quindi mi prendo la responsabilità di tutto quello che succede posso automatizzare ragazzi questa è la chiave di volta della vostra attività posso automatizzare il patch deploy allarme tutto automatizzato ma soprattutto l'automatizzazione la faccio una volta sola creo uno script per una determinata attività per il cliente pinko pallino questo script poi lo posso spalmare su tutti gli altri clienti quindi ci lavoro una volta sola non devo rifare le cose n volte perenni clienti torniamo perché l'automatizzazione è importante perché troppe cose ci fanno perdere tempo le patch la verifica dei backup l'installazione all'aggiornamento dei software troubleshooting tutte queste attività ci portano via troppo tempo e alcune sono anche complesse quindi io devo per forza automatizzare nel momento in cui ho tutto automatizzato ho tutto sotto controllo faccio bella figura con il cliente e in più lo faccio lavorare e sto anch'io sereno nel mio tempo libero io fornitore i tini nel mio tempo libero non avrò l'ansia di dire oddio quel cliente aveva il disco vecchio più di mio nonno e quindi sicuramente arriverà il momento in cui si crescia no probleme se il disco muore io ricevo un allarme direttamente dalla mia console e quindi sono aggiornato in tempo reale facciamo degli altri esempi aggiornamenti un consulente di Milano con 50 postazioni gestite i suoi clienti utilizzano mail store che tutti voi conoscete immagino vero e tutti voi usate usano il plug-in di Outlook per le ricerche quindi mail store ha un plug-in di Outlook che mi consente di fare le ricerche direttamente da Outlook scusatemi come faccio ad aggiornare il plug-in quando esce una nuova versione eccetera eccetera con qualcosa che lo stalla in modo automatico silenziosamente quindi senza neanche stare ad interrompere il singolo utente per fare l'aggiornamento utilizzo un prodotto di automazione un RMM che fa il lavoro al posto mio lo fa nel momento in cui io dico che lo deve fare e nel momento in cui succede qualcosa o porta a compimento l'attività mi avvisa con un alert e mi dice guarda che è tutto andato a buon fine oppure guarda che c'è stato un problema di questo tipo e allora in quel caso io intervengo un altro esempio svuotamento un service provider milanese sono solo in due persone un cliente gli scrive dicendo che ha avuto un errore di spazio disco insufficiente mentre scaricava un file come si risolve questo problema? un click svuoto il cestino da remoto meno di 20 secondi tutto fatto attraverso il prodotto RMM quindi cosa voglio di più? esempi di prevenzione criptovirus un service provider sono in quattro persone del Veneto hanno trovato una soluzione per prevenire il criptovirus ma come faccio a distribuirla su 550 macchine? ho trovato una soluzione interessantissima fighissima tutto quello che volete ma se devo installarla manualmente su 550 macchine per troppo tempo con un prodotto RMM con l'automazione chiaramente posso farlo su tutte le macchine che gestisco quindi riassumendo vuoi che l'IT contribuisca alla produttività tua ma anche dei tuoi clienti un prodotto RMM è la soluzione questa è la soluzione c'è poco da fare perché andiamo a riassumere ho meno costi meno costi per i tecnici meno tempo sprecato meno probabilità di avere problemi perché ho tutto sotto controllo ho più soldi sono più tempestivo sono sempre sul pezzo pronti via succede il problema io sono già lì sono ho più controllo quindi anche in questo caso sono sereno sono tranquillo posso fare più margine perché posso offrire più servizi o offrire nuovi servizi adesso vi faccio l'ultimo sondaggio vi prometto che l'ultimo poi basta vi ho convinto quali sono i dubbi che vi vengono per esempio non sono in grado di vendere servizi ai miei clienti non ho tempo per cambiare modo di lavorare i miei clienti mi vogliono vedere oppure sono ricco e non ho bisogno di lavorare occhio a chi risponde all'ultima perché poi vi chiedo di sposarmi state attenti perché no 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 chi risponde sono ricco non ho bisogno di lavorare dopo lo chiamo e vi arriva una proposta di matrimonio sappiatelo e se siete sposati niente ve la dovrete vedere con la vostra moglie allora vi do ancora qualche secondo per rispondere non fate i timidi per favore chiaramente queste sono delle obiezioni che noi incontriamo sempre durante la nostra attività lavorativa quindi vi abbiamo messo queste risposte possono esserci anche delle risposte che noi non abbiamo considerato ma appunto abbiamo messo quelle più ricorrenti quando parliamo con i nostri partner allora chiudo condivido un attimo le risposte andiamo a vedere come sono le risposte allora non sono in grado di vendere servizi per questo non c'è un grosso problema perché ACAB ha creato un corso apposito poi se volete ne discutiamo offline non ho tempo per cambiare modo di lavorare il 25% siete in tanti ragazzi il 25% è un valore abbastanza alto però è un circolo vizioso perché se non cambiate modo di lavorare rimaniamo ancorati all'attuale modo di lavorare che evidentemente però non vi sta portando tutti i benefici che vi aspettavate quindi cerchiamo piano piano di fare qualcosa in più i miei clienti mi vogliono vedere 42% perfetto non ci sono problemi voi potete andare comunque dal vostro cliente andate dal cliente portate un report con tutte le attività che avete fatto bevete un caffè gli chiedete come sta la famiglia il cane il gatto e lui è contento sono ricco non ho bisogno di lavorare vi chiamo dopo così ne parliamo bene siamo arrivati in dirittura ad arrivo di questa presentazione vi voglio dare solo un paio di informazioni aggiuntive adesso poi andiamo a vedere se ci sono delle domande per chi acquista Autotask and Point Management entro fine maggio c'è una promo imperdibile quindi fate mente locale su quello che volete fare contattateci ci trovate nell'indirizzo sales schioccialahabu.it potete chiedere di me che sono Elisa oppure di Marianna che è la collega che segue questi questi prodotti mi raccomando quantomeno parliamone vi ho fatto ho preparato anche una slide dei prossimi appuntamenti che avremo a livello di eventi trovate comunque tutto il dettaglio sul nostro sito abbiamo un webinar il 22.5 su ransomware perché abbiamo delle nuove purtroppo novità in questo ambito se volete iscrivervi lo potete fare dal sito abbiamo un Datotech Lab a Genova un roadshow delle novità a Arezzo un roadshow delle novità a Udine e un MSP Day a Riccione l'8 di giugno vorrei sottolineare l'importanza di questo evento perché si parla proprio di MSP quindi tutti i dubbi che avete sulla fornitura dei servizi tutto quello che vorreste chiedere per passare alla fornitura di servizi durante questa giornata avrà una risposta quindi iscrivetevi passiamo ora alle domande vediamo oh mi dispiace Claudio fosse ballerino Danilo ti chiamo Danilo chiede mi dispiace Stefano che l'audio sia stato pessimo magari è un problema della tua linea non lo so comunque ci sarà la registrazione dell'evento che verrà inviata a tutti i partecipanti quindi state tranquilli ecco se non avete sentito dei pezzi lo troverete mi dispiace Stefano Danilo ti chiamo più tardi lo so che non vuoi non sarà una proposta di matrimonio ma ti interessa solo la promo di maggio comunque ti chiamiamo oggi pomeriggio se avete delle domande abbiamo già delle domande come avviene il monitoraggio dei sistemi QNAP o Sinology passo la parola al collega chiaramente del reparto tecnico perché diciamo diciamo che io non sono in grado di rispondere a questa domanda allora buongiorno a tutti in sostanza come avviene il monitoraggio dei sistemi QNAP o Sinology il tutto avviene attraverso un passaggio di informazioni legate a SNMP al servizio SNMP in pratica uno degli agent presenti installati all'interno delle macchine ai vostri clienti eseguirà analisi della situazione per i dispositivi che non potranno erogare informazioni attraverso uno specifico agent installato e così otterrete tutti i dati riferiti agli OID del servizio SNMP della macchina che ovviamente non può essere gestita fisicamente da un agent perché non può ricevere un'installazione di un componente al suo interno ok perfetto grazie fra poi chiaramente se avete bisogno di aggiornamenti più dettagliati siamo qua senza nessun problema allora vediamo possiamo agganciare ah scusami Luca prezzi e promo in separata sede sì Luca purtroppo la registrazione tendenzialmente durante i webinar non parliamo di prezzi nel dettaglio proprio perché poi la registrazione viene messa sul nostro sito quindi evitiamo qualora ci fossero dei cambiamenti dei listini che ci sia una registrazione vecchia comunque ti chiamiamo e putardi e ti chiamiamo e putardi per darti tutti i dettagli Francesco possiamo agganciare il discorso monitoraggio di GDPR con monitoraggio Autotask per invogliare il cliente assolutamente potete basarvi proprio su quanto richiede il GDPR ormai appunto tutti i clienti sono un pochino in ansia con questo discorso del GDPR questa è la leva che vi serve per farvi cambiare idea cioè per farli switchare al discorso dei servizi e ovviamente dandogli un monitoraggio delle macchine è un passo in più verso il GDPR compliance tutto qua quindi assolutamente se poi vuoi Francesco ne parliamo più tardi non so se se mi sentite perché non so se mi sentite perché in questo momento l'audio ah sì perfetto grazie perfetto Francesco grazie ok perfetto bravi mi piace che sentiate tutte le cose che dico avete Mib per device di altri vendor immagino monitoraggio di uno switch manager Stefano sì sia caseia che autotask sono implementati con prodotti di terze parti sia per quanto riguarda per esempio prodotti antivirus prodotti per il backup poi chiaramente attraverso gli script che appunto in caseia si chiamano script in autotask si chiamano component ma hanno la stessa funzionalità tu puoi crearti tutta l'automazione che vuoi anche in questo caso non tutti sono diciamo formati sul discorso scripting noi abbiamo creato un corso ad hoc per darvi una mano eventualmente perché appunto non è pane quotidiano di tutti allora aspettiamo ancora qualche minuto qualche minuto scusate qualche secondo se ci sono oh mamma mia domenico domiziano ciao domiziano hai mai fatto qualcuno un conto totale dei prodotti cloud msp da erogare per clienti pc antivirus rmm posto mail store controllo remoto backup office come fare per vendere hai mai fatto qualcuno un conto totale non ho capito in che senso scusami allora provo a rileggere la tua domanda in modo più l'ho letto un po' male scusate ha mai fatto qualcuno un conto totale dei prodotti cloud msp da erogare per cliente pc antivirus rmm posta mail store controllo remoto backup office come fare per vendere guarda domiziano quello che suggeriamo noi è fare dei pacchetti ok tu devi creare dei pacchetti ad hoc che includono tutte queste tutti questi prodotti chiaramente saranno dei pacchetti differenziati ci sarà diciamo un pacchetto base che include n prodotti un pacchetto di intermedio che ne include qualcuno in più e il pacchetto fighissimo quello bellissimo che include tutto con prezzi differenti chiaramente ogni cliente sceglierà il pacchetto che preferisce come venderlo guarda noi facciamo un corso specifico su come vendere i servizi secondo me potrebbe essere utile partecipare oppure potresti sicuramente venire a riccione all msp day in quel caso come vi dicevo prima perfetto in questo caso come vi dicevo prima c'è la possibilità di avere tantissime risposte alle vostre domande di fare nuove domande che magari vi vengono in mente in questi giorni ma anche cosa essenziale domenziano tu lo sai perché hai già partecipato ai nostri eventi interagire con gli altri rivenditori con gli altri partner nel momento in cui voi fornitori IT parlate tra di voi e saltano fuori delle uno collaborazioni che poi durano negli anni l'abbiamo già visto tantissime volte è uno scambio di informazioni di suggerimenti su cosa a cui magari noi non avevamo pensato perché comunque facciamo un lavoro diverso noi non siamo dei fornitori IT noi siamo dei distributori non sempre siamo in grado di darvi delle risposte precise parlando con qualcun altro che fa la vostra attività magari è più facile cogliere il suggerimento corretto non so se hai risposto alla tua mail però ci vediamo a riccione porta il costume perché faremo il bagno no scherzo ovviamente non lo so va bene allora non ci sono delle nuove domande al momento ancora qualche secondo se qualcuno ha qualcosa da aggiungere comunque in ogni caso siamo qua e senza nessun problema se vi vengono in mente domande avete bisogno di chiarimenti eccetera scriveteci chiamateci quello che volete e niente grazie per aver partecipato grazie Fabio sai che se le donne chiacchierano 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 grazie per aver partecipato ci aggiorniamo ci aggiorniamo nei prossimi giorni e grazie buon lavoro grazie Fabio arrivo domani subito ciao buon lavoro a tutti ciao